Sarò 100% sincero con voi, credo che questo Broly sia completamente sbagliato, io l'ho già provato un pochino, e credo, da un lato, sia giusto che possa morire facilmente. Fa bene per il gioco, ok, il fatto che possa morire facilmente. Ora, io non devo parlare di sta unità, fondamentalmente. Non devo parlare, non devo tranquillamente parlare. Vi basta vedere questo turno qua. Vi basta semplicemente vedere in base, ok, non a Legendary Super Saiyan, in base cosa combina. Io non devo fare altro. Voi capirete benissimo perché è giusto che possa morire facilmente. È giustissimo. Non c'è proprio nulla di sbagliato in tutto ciò. Perché fosse immortale... Stavo dicendo perché se fosse immortale, ok, ci sarebbe qualcosa di sbagliato, ripeto. Quelli sono i danni sotto domain di MUI a momenti revive attiva dei MUI AGL o Vegeta Int, ok? Quelli sono i danni che fanno loro due, là, ok? Sotto il domain di MUI è quando avete la revive attiva. Turno 1. Sì, ok. Va bene. Va benissimo. Quindi, ripeto, ok, reputo giusto, ma veramente tanto, che possa morire facilmente. Perché sennò, raga, non c'è un senso logico nel giocare al gioco. Vedete, quando noi prendiamo il Super Hero e ne parliamo, Super Hero è immortale, sì, fa tanti danni. Bene, qua abbiamo veramente chi fa i danni, ok? Beast, per fare quei danni, deve prendere 250 colpi. È vero, fa due special critate, viene colpito, tutte le robe. Sì, giustissimo. MUI non arriva a fare sti danni. Vegeta non arriva a fare sti danni. Beast non arriva a fare sti danni. MUI tech solamente sotto domain e quando fa tutti i counter. Sennò non fa danno neanche lui. Quindi, ripeto, sì, è giustissimo che questo PG possa morire facilmente. È un Glass Cannon? Sì, tanto nessun boss sopravvive appena arriva il suo turno ad attaccare. Quindi, siamo in quel punto del gioco al momento dove vedo questa carta, rido molto, perché mi fa ridere, ok? Mi fa molto ridere. E buona, fine. Cioè, basta, non devo fare altro che dire... Ahaha, guarda, fa ridere. Perché fa ridere? A me fa ridere. Però la gente lo chiama mid perché non ha damage reduction, perché non ha tutte quelle robe. E non ha ancora capito che il gioco in realtà, da un lato... Vabbè, tanto era inutile qua dare la special. Il gioco, da un lato, devono esserci anche i danni e molte volte, moltissime volte, la miglior difesa è l'attaccare più forte del boss. Nel senso che, se tu attacchi tanto e fai tanta bua, il boss muore. E quindi, non esiste il fatto che lui abbia poca difesa. Quando arriviamo al prossimo turno, che abbiamo attivato le svariate robe che dobbiamo attivare, capirete quello che intendo. Perché il prossimo turno lo vediamo in una situazione anche un po' del cacchio, ma va benissimo. È giusto che lo vediamo in una situazione del cacchio. È giustissimo che lo vediamo in una situazione del cacchio. Ora, come stavo dicendo, no? Il suo unico difetto, ieri lo stavo dicendo, il suo unico difetto è che gli AOE gli fanno paura. È giustissimo che esploda, fine. Non c'è senso logico che non possa esplodere. Deve poter esplodere facilmente. È sano per il gioco che lui esploda facilmente. È giusto così. Fine. Non c'è nessun mondo dove questa cosa non sia giusta. Ok? Il gioco deve rimanere in un ambiente sano dove, sì, questo Broly ha delle particolari situazioni dove Aya gli implode. È giusto così. È giusto così, ripeto. Vorrei uccidere qua. Sarebbe tanto bello uccidere. Perché dopo andiamo al full turno, abbiamo Broly, Broly, Rudegan. E il turno dopo abbiamo Broly, Broly e Tarles. Ma soprattutto abbiamo Broly, Broly con Active e Tarles. Quello è il bel turno. Quello è il bel turno. Bello, bello. Eccolo qua, si trasforma. Allora, in base l'avete visto che comunque carica un bel po'. Quindi anche da quel lato problemi particolari non ci dovrebbero essere. Nel senso che spesso e volentieri avete ucciso prima di fare qualsiasi altra roba. Non la devo tirare, non la devo tirare, non la devo tirare. Voglio farvi vedere la situazione con il buffer. Tutto super mega figo, bellissimo. Wow, 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 wow. C'è anche il domain. Aiuto. Ok? Va bene? Allora. Allora. Parliamo di Broly. Ma che cacchio devo parlare, scusate? Vi lascio vedere Broly, fine. Io non devo fare niente, devo solo lasciarvelo vedere, fine. Non devo fare niente. Non devo fare assolutamente nulla. Oh, 24 milioni Broly Tech nuovo. Interessante. Interessante. Giusto dire, però è vero, 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 vero. Eh, sì. Non sembra esag... Ah, fa più danno. Nel turno di merda, eh. Ok. Ok. Va bene. Ecco. È un po' la base della celebrazione la culerite. Questo è l'unico difetto che gli vado a dare, ok? La culerite c'è ed è troppa. Basta culerite, fa male la culerite. Ok, nella situazione migliore qua tancava molto meglio, oppure uccideva. Ok? Ripeto, è giusto così. Tranquilli fidatevi. Comunque nella situazione migliore la chance di tirare quelle special è molto più alta, quindi... Se vuole fare lo stronzo, farà lo stronzo. Don't care. Ok? Proprio detta come va detta. Se vuole fare lo stronzo, farà lo stronzo. Se non vuole fare lo stronzo, va benissimo. Fine. Quella poca vita. A me piace molto. Mi piace veramente tanto. Sapete perché mi piace veramente tanto? Sì, perché intanto vedete un broli con 36 milioni. Perché ovviamente abbiamo uno dei link più belli dei broli attivi, Berserker. Però ora capirete ancora di più. Sì, vedete Gogeta e tutte le robe. Ok? Vedete Gogeta e tutte le robe. Ci sta? Dite. Wow, figo. Bene. Io ora farò una cosa. Uso il Ghost Asher giusto per una piccola cosa. Vi lascio giudicare broli. Vi lascio giudicare broli. Ripeto, è giusto così. È giusto così. Fine. Enjoy. Questa special fa più danno dell'intera vita di coso. Ha caricato più di cento... Quanto era? Centoventi milioni. Ok. Va bene. Va bene. Sì. Va proprio bene. Ripeto, è sano che possa morire facilmente. Per il gioco è giusto che lui possa crepare da tutto. Se non potesse crepare da tutto, regà, non c'è un senso logico nel giocatore. Cara, sto cazzo di gioco. Ok? E lo dico proprio con tutta la tranquillità. Quando una carta fa questi tipi di danni. Ok? Perché... Sì. È stupidissimo da vedere quella roba. Quando una carta può fare quei tipi di danni. Ok? Può arrivare ancora di più. È giusto che possa crepare facilmente. Perché il crepare facilmente bilancia il fatto che lui faccia troppo danno. Ok? Voglio che mi ritrovate una carta che, lanciando semplicemente un active, prima special è 80 milioni. 80 milioni è più della vita del boss. C'è la DR, quindi non vedrete 80 milioni. Capite che poi comunque vi fa un additional. E un altro... Non c'è roba che sopravvive. Nel meta di Dokkan al momento non c'è roba che sopravvive a questa cosa. Non c'è. Cioè se il suo turno bello dove fa special e poi add, poi add, eccetera... Non c'è boss che sopravvive. Non hanno abbastanza vita. Quindi avere il PG che mi crepa dalla UE è giusto così. È giustissimo così. Perché la miglior difesa è l'attaccare più forte. Fine. E questo è un bel PG. E io godo. Troppo. Troppo. Troppo, troppo, troppo. Raga, è stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video. Lasciate un bel like, commentate. Siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.